Creval Sistemi Servizi Creval Sistemi Servizi è una società del gruppo Creval, del gruppo bancario Creval, ed eroga i suoi servizi informatici prelevantemente al gruppo bancario. Oggi abbiamo presentato in questo convegno la soluzione ABC Mobile, una soluzione che abbiamo realizzato a beneficio di tutte le nostre filiali. All'interno di questa soluzione troverete come concetto pratico l'inserimento all'interno dello smartphone, di cui abbiamo dotato tutti i nostri responsabili, di componenti importanti dello sportello bancario. Introdurre questa novità ha consentito di fatto di cambiare in modo irreversibile il modo di lavorare dei nostri collaboratori. E quando intendo irreversibile vuol dire molta più propensione dei colleghi verso il cliente, la mobilità verso il cliente senza necessariamente attendere l'ingresso del cliente in filiale. Inserire questi processi, questa parte dello sportello, consente a chiunque a questo punto di avere sotto controllo tutto ciò che accade in filiale, ma consente anche di interagire con la filiale, sbloccare dei processi, autorizzare degli eventi, controllare la posizione del conto dei propri clienti, aggiornata in tempo reale esattamente come se fossero fisicamente in filiale. E ha consentito anche di poter agire con la banca con una certa flessibilità d'orario, quindi anche quando normalmente le funzioni non erano a loro disponibili. ABC Mobile è il primo passo di un programma di evoluzione del nostro modello di servizi verso la mobilità. È quello che interessa i nostri colleghi, i nostri operatori di filiale, ma in realtà il processo nasce da loro per arrivare comunque al cliente finale. Attraverso ABC Mobile noi abbiamo introdotto logiche di lavoro in mobilità e attraverso la comprensione di come si lavora in mobilità adesso siamo pronti per rilasciare sul mercato la soluzione del nuovo Internet Banking, quindi soluzioni estremamente innovative che oggi è sempre più semplice da parte dei nostri colleghi spiegare, illustrare al cliente, proprio perché hanno vissuto questa esperienza. Il valore di questa esperienza sta anche nell'aver adottato nel tempo soluzioni che digitalizzano alcune operatività che prima per esempio erano cartacee. A titolo di esempio posso parlare della grafometrica. La grafometrica è una soluzione introdotta tre anni fa nel nostro sistema, oggi ormai matura e applicata nella gran parte dei processi, che ha reso il processo sicuro, certo, veloce ed economico. Credo che la soluzione grafometrica sia per il nostro settore dirompente tanto quanto lo è stata l'introduzione del Bancomata negli anni 80, l'onbanking negli anni 90. Ecco, dopo 15 anni viviamo una rivoluzione che ha veramente modificato completamente il modo di lavoro sia dei colleghi che dei clienti. Oggi togliere la grafometrica dei nostri clienti sarebbe così complicato come togliere loro il Bancomat o l'onbanking.